Salve a tutti, sono Marco, fizzaiolo italiano. Benvenuti a Forno Italia. Sì, Simon. Sì, sei il principale chef di Forno Italia. Cosa eravamo quando hai fatto la prima pizza? Sono circa 15 anni. Sì, Bartek. Forno Italia è un business di famiglia. Sì. Sì. Sì, come hai fatto la nostra Italia? Un po' anni fa, sono andato con mio padre. E proviamo la pizza reale italiana da un'olata. E pensiamo che possiamo mettere l'olata e la pizza migliorata di più qualità sul mercato. Sì, ho visto che ci sono molte certifiche. Cosa sono queste certifiche? La certifiche è la classica pizza. La certifiche è una delle più importanti per me. Perché sono l'institutore. La Hai fatto la tua menù. E proprio la pizza, non hai delle altre opzioni. La nostra principale è la pizza, perché è la nostra parte che abbiamo appena a compagnie. ma abbiamo anche l'antipasti, l'italiano speciale, i salati. Il menù è il menù, ma buon menù. Quindi, se hai dovuto chiedere due cose dal menù, quali sono le due due preferite? Il primo è l'antipasti, il secondo è il mio nuovo pizza. Ti piace provare? Mi piace provare. Grazie. Quindi, quale è la migliore pizzeria in Poznan? Tu sei già qui. No